Siete rigidi? Siete tesi? Siete nervosi? O siete rilassati? Ecco, molto nervosi. Restiamo concentrati e scriviamo sul foglio quello che abbiamo sentito. La tristezza dove la collochiamo? Armonia? Alta o basa? Serenità. Quindi vuol dire che nel vostro gruppo c'era qualcuno che oggi è felice e qualcuno che oggi è felice? Tranquillità. Tranquillità non l'abbiamo messa, in che zona la mettiamo vicino a cosa? Armonia alta. Arrabbiata? Sì. Qua sono i relax, no? Il corpo è proprio... Quindi qua... Ok, dove la mettiamo? Giugna, energia e armonia? Siamo qua. Abbiamo bisogno un pochino di cambiare noi stessi per rendere il mondo più umano, cioè il mondo più bello. Che cosa dobbiamo cambiare di noi stessi? Rabbia, voglia di tirare a pugni, agitazione, preoccupazione, ansia, tristezza, stanchezza, confusione, noia, depressione. Nella scrofa denunciamo questa cosa qua e poi Vitor Mello arriverà come soluzione. Vi faccio sentire adesso la melodia. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ci sono ancora più dentro. Allora, sì ci sentiamo solo. Vediamo allora che cosa ci succede. Può funzionare o siamo, vediamo? Ci sentiamo soli, ci sentiamo tristi? Sì, sempre più soli, sempre più soli. Quanta violenza c'è quando... Funziona, eh? Pronti? Pronti, cosa ci succede? Sempre più soli, più tristi. Gli amici ci tradiscono, i duri ci sfruttano. Quanta violenza c'è chi intorno? È tempo di unire le nostre mani. Ci sentiamo versi, ci siamo lontani. In colori diversi dell'arco valeo. Quanta violenza c'è chi intorno, i duri ci sfruttano. Quanta violenza c'è chi intorno, i duri ci sfruttano.